L'estinzione della Fondazione La Colombaia ha 20 anni dalla sua esistenza. Ignazio Castagliolo, allora era un atto necessario? Era un atto necessario, viste le condizioni. D'altronde, Medeo, quante volte da queste emittenti, quando io rappresentavo quel ruolo di consigliere generale, si era creata una situazione insostenibile. Le responsabilità sono evidenti, sono chiare. L'attuale amministrazione ha deciso di sciogliere. D'altronde era una proposta che io feci all'interno del Consiglio Generale, tanti, tanti anni fa. Non c'erano le prerogative. Devo dire che la Regione Campania ha attuato questa cosa, c'era una massa debitoria. Il Comune di Fiorio ha deciso anche di non infierire. E questo io lo ritengo legittimo, perché a me la via giudiziaria non piace in politica. Ma le responsabilità sono evidenti. Devo dire che la Colombaia non poteva morire soffocata dal suo passato. La Colombaia rimane il titolare della proprietà, rimane il Comune di Fiorio. La prossima amministrazione, che sarà una nuova amministrazione, probabilmente avrà delle idee molto ben chiare per portare avanti questo progetto, perché dal progetto culturale di mettere a centro la cultura significa creare anche un respiro, un diverso tipo di turismo, una diversa qualità di vita e soprattutto democratizzare. Democratizzare nel senso che il contrario della cultura non è l'ignoranza, è la barbarie. Ed è un elettorato che sceglie male, crea una classe dirigente, spesso culturale, spesso anche religiosa e soprattutto politica, mediocre. Anche una classe imprenditoriale mediocre. Quindi partire... ed è stato un bel segnale, almeno nel mio punto di vedere, estinguere questo passato. Perché questo passato sono 20 anni che sta soffocando il presente, per non avere un futuro che era pessimo.